e bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video allora ragazzi nello scorso video vi avevo detto che appena la trovavo ve l'avrei fatta vedere eh io sono un uomo di parola ragazzi a parte gli scherzi eccola qui ve l'avevo detto che ve la facevo vedere quindi eccola qui ragazzi proprio nel punto dove vi avevo detto infatti qui ragazzi una volta che l'avete diciamo presa a vostro ragazzi ci potete fare tutto quello che volete ragazzi eccetto modificarla si allora perché facciamo le persone perché se no io non posso proprio passare cioè ma questo non c'è ma ragazzi ma che cosa ma perché ragazzi allora comunque a parte tutte queste cavolate che fanno questi qua di dos Santos comunque vedete non può essere modificato ragazzi ah che bella macchina questa comunque ragazzi quello che vi volevo fare diciamo vedete ragazzi e che è questo guardate e tipo io adesso ragazzi chiamo Franklin perché lo voglio incontrare ragazzi 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 vi volevo fare vedere allora che in questa macchina c'ha uno due tre quattro c'ha c'ha un batto di poste c'è una limousine ma c'entrano tre persone c'è due persone mi sa fra le due o tre persone non ne manca una mezza persona in più ragà però non so perché che cacco c'è ho persone a limousine che peggio che meglio di un camio cioè comunque andiamo a prendere Franklin e chiamiamo anche Mario Michael quindi raga però è bella sta la limousine cioè che la volevo fare tipo qua è quasi nera però quindi questo dove cacchio sta eh ragazzi sto più vicino a Michael quindi ci vado un attimino prima da lui ecco mi ci trovo maiamo non c'è manco cosa lì una collina collina qui c'è proprio una collina ragazzi oddio oddio comunque ragazzi vi volevo far vedere questo eh dopo ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciate tantissimi like iscrivetevi subito al mio canale e fatemelo sapere nei commenti se eh vi è stato utile eh per qualcosa non so ehm se vi è stato utile e specialmente cosa che mi riguardi se vi è piaciuto quindi ragazzi eh un attimo che sta macchina ragazzi ce la farà in quale qui vero? credo di si ok ragazzi ehm vediamo se Michael sale ok ragazzi se Michael riesce a salire vediamo un problema vero infatti perché ragazzi allora va a finire che hanno cambiato pure qualche cosa perché ragazzi tipo io guardatevelo giuro ieri sono praticamente no non mi ricordo ieri o la settimana fa comunque ragazzi sono andato proprio su questa e in pratica non entravano più di due persone però ragazzi se adesso hanno cambiato qualcosa o meno ragazzi o dire perché è un bel po' che rivedo questa immagine ragazzi infatti l'ho appena detta e come ve l'ho detto nello scorso lito che ho fatto ve la faccio vedere quindi la si quindi ragazzi andiamo a prendere un attimo Franklin perché sennò questo qua ci rimane male no e non ci rimango male io che ho perso la strada eh cavolo comunque ragazzi ehm ok ok eh ragazzi questa curva l'ho preso un poco bene dai 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 ragazzi speriamo di arrivare alla destinazione in tempo perché sennò non abbiamo concluso neanche in questo video quindi speriamo come scherzo ragazzi come sempre quindi ok vai dietro vai dietro stiamo andando avanti quindi stiamo andando avanti quindi ragazzi eh io vi do un consiglio eh con questa macchina non eh salite ma cioè se tipo state facendo una colli ma perché stiamo andando sta collina una salita molto ripida e se per qualche motivo vi dovete fermare eccetera eccetera dovete riandare dietro perché stanno non ce la fa fidatevi che non ce la fa quindi ragazzi il momento della verità adesso ragazzi come già vi ho detto in precedenza eh non sono riuscito a farlo salire ecco ma ragazzi dai dai ragazzi per lo per lo meno è salito dai quindi ragazzi questo che mi piace non è uscito però dobbiamo chiamare pure Lamar no non lo posso inviare scusate ragazzi allora io direi di concludere qui il video se vi è piaciuto questo video fatemi un video in un momento e se finisate le informazioni anche ragazzi se vi è stato utile per qualcosa in qualche motivo ci avrete accelato eh ragazzi provate in qualche modo a modificarla io ragazzi eh ci proverò eh e se diciamo sono riuscito a farla modificare eh vi aggiornerò subito quindi ragazzi se vi è piaciuto il mio video iscrivetevi subito al mio canale lasciate tantissimi like e fatemi sapere nei commenti tutto quello che vi ho detto ciao ragazzi